Non fare la timida. Mi sento così intasata dal vicodin. Devi tornare al negozio e prendermi un lassativo. Mi pare che si chiami momenti sereni. Forse sarebbe meglio momenti tempestosi. Avrò bisogno di te stasera. Maria non viene. Uno dei suoi mille figli ha il colera, o quello che è. Che devo fare? Cosa in cucina, più o meno. Tutte cose facili. Versare da bere, magari servire qualcosa. Ti divertirai, tanta gente di spettacolo. Ti farà bene. Cazzo, stavolta un cristere d'obbligo. Aspetta, aspetta. Volevo farti una domanda. Vedi uomini? Qualche volta. E adesso stai uscendo con qualcuno? È così. Sì, giusto ogni tanto. Che fa di lavoro? È un attore. Oddio, sono i peggiori. La mattina devi litigarci per lo specchio. Nel mio caso questo non può succedere. Lui scrive anche. Tu sei molto attraente, perciò non devi mai sminuirti. E lo fate insieme? Havana! Dai, puoi dirmelo. Quante cose fai con lui? Facciamo così tutto. E tu vieni? È giusto, allora. Fa il cameriere? No, tu, lui guida le limousine. L'hai visto davanti a Valentino. Ah, sì. È uno carino. Ragazzi, gli autisti di limousine sono lupi. Ah, ok. Mi servono yogurt e sigarette. E chiama quelli dell'idromassaggio, non c'è più acqua calda. Oh mio Dio. Oh mio Dio, c'è una puzza qui. Oh mio Dio.